Mentre in Italia va avanti il dibattito politico sul disegno di legge relativo all'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, presentato dall'eghista Roberto Calderoli, con cui lo Stato riconoscerebbe alle regioni una maggiore indipendenza legislativa su varie materie, tra cui il gettito fiscale, il rapporto della Banca d'Italia fotografa un paese a due velocità per lo sviluppo economico. I dati sono stati presentati nell'ambito di un convegno che si è svolto presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università d'Annunzio di Pescara. Nel divario tra nord e sud l'Abruzzo si colloca più vicino alle regioni del centro nord, vantando la grande risorsa del capitale umano con un'ottima percentuale di laureati tra i giovani, come sottolineato da Giovanni Giuseppe Ortolani, direttore della filiale regionale dell'Aquila della Banca d'Italia. L'Abruzzo storicamente si è sempre posizionato rispetto a tutta la serie di indicatori economici e sociali più vicino al centro nord piuttosto che alla media del meridione. L'Abruzzo ha conosciuto una fase di grande crescita economica che l'ha avvicinata alle medie nazionali fino agli anni 90. Poi la crescita si è attenuata e mediamente è stata inferiore a quella dell'Italia nel suo complesso. Quali sono le ragioni? Molto sinteticamente i problemi risiedono principalmente in una minore produttività del lavoro dovuta in buona parte anche a fattori demografici. Quali sono i punti di forza dell'Abruzzo? Innanzitutto una buona dotazione di capitale umano. La percentuale di laureati nella popolazione tra i 30 e i 34 anni in Abruzzo è di gran lunga superiore a quelle del meridione addirittura superiore a quella dell'Italia. Quindi la regione è dotata veramente, questo è un dato molto lusinghiero, di un capitale umano molto qualificato che nella società attuale del futuro in cui le conoscenze sono il centro, insomma questo dato ci rende particolarmente ottimisti. Anche i dati Istat sull'export e l'occupazione del 2022 rilevano un andamento in generale positivo per l'Abruzzo con l'export che sale del 2,1% nonostante il calo dell'automotive che registra un meno 21% e quello dell'occupazione che scende dello 0,3%. A parlarne nel dettaglio il Tg8 è Pino Mauro, economista e docente dell'Università d'Annunzio. Ci sono due momenti di riflessione, il primo momento riguarda appunto l'export dove l'Abruzzo registra una crescita del 2,1% è una crescita contenuta ma questo è dovuto essenzialmente alla caduta molto forte che ha avuto il settore dell'automotive, i mezzi di trasporto in particolare diminuiti di circa il 21%. Dall'altro lato l'occupazione. Nel 2022 appara stagnante, c'è una diminuzione del meno 0,3% che è un dato a mio avviso inferiore rispetto sia all'Italia che al mezzogiorno ma credo che sia dovuto essenzialmente alla provincia di Chieti, infatti se noi disaggregiamo i dati per provincia notiamo appunto questa forte percentuale in diminuzione della provincia di Chieti. Nel complesso direi che questo dato sull'occupazione non è ovviamente un dato positivo però sconta il forte rimbalzo che l'Abruzzo ha avuto nel 2021 dove era cresciuta l'occupazione in maniera molto accentuata e ad oggi c'è questa fase di assestamento. Nel complesso c'è una buona tenuta delle principali grandezze macroeconomiche che poi sono le grandezze fondamentali di un sistema economico regionale. Grazie. Grazie.